I numeri lo confermano, in Italia i praticanti di Pilates sono aumentati del 70% in 10 anni. Prima in un aspetto che non si evidenzia abbastanza, i risultati che si ottengono dipendono in gran parte dalla preparazione degli istruttori e dalle attrezzature che si utilizzano. A questo dedica la sua vita Rael Isakovic, maestro di fama internazionale e protagonista dei quattro giorni di lezione tenutisi a Prato da giovedì a domenica scorsa presso l'auditorium della Camera di Commercio. Tutto esaurito, in particolare per la conferenza aperta al pubblico di sabato pomeriggio dedicata al benessere della persona, in un dialogo stretto tra mente e corpo. È un grandissimo piacere essere qui, a Prato, davvero una bellissima città, dove ho l'onore di presentare il mio approccio al Pilates, chiamato Basi Pilates, che sta per Body Art and Science International. Ho l'onore di essere ospitato da Ilaria e Gianni, i miei rappresentanti in Italia, e loro portano avanti il Basi Pilates in Italia. Arrivare a Prato, portare qui persone da tutto il mondo, ci sono persone da sei o sette paesi diversi, arrivati qui per studiare, confrontarsi e crescere, in tutti i sensi, attraverso la tecnica e l'approccio del Basi Pilates. Ciò che è unico e peculiare del Basi Pilates è che rispetta gli insegnamenti della disciplina fondata 80 anni fa da Joseph Pilates e sua moglie Clara, ma allo stesso tempo tiene conto delle conoscenze scientifiche che abbiamo oggi, portando le basi tradizionali della disciplina nella società contemporanea. Isdakovic fonda nel 1989 il Basi Pilates, che diventa una delle accademie più famose al mondo, diffusa in 30 paesi, conta più di 100 studi e oltre 10.000 insegnanti certificati. A Prato la rappresentante di questa disciplina è Ilaria Pulidori, che insegna Basi Pilates dal 2011. È dal 2011 che io spero di averlo qui in Italia. Io sono fierissima, io sono di Prato, quindi ho voluto che l'evento fosse a Prato e sono fierissima che lui sia qui e felice che tutte le persone che sono venute da tante parti d'Europa stiano apprezzando in pieno questo evento.